Ciao a tutti, e oggi l'Hub di Atmoscletto si è aggiornata alla versione 1.1.6 E adesso andiamo a vedere le novità Allora, già dalla schermata Home si vedono tre nuove cose Una è questa cosa qui, poi la seconda è questa, e la terza è questa Ma noi andiamo al Star News e iniziamo a leggere le solite cose Quello di oggi è un grande aggiornamento, con le correzioni di bug e molte novità 1. Il calendario è stato modificato per essere più usato, non completo Perché si sarà risorti per il prossimo aggiornamento, ma per maggior info seguite l'administratore su YouTube Allora vi dico perché, è un casino Ah, comunque allora ho scritto l'articolo Perché modifico il calendario vecchio anche se non serve E in descrizione lo trovate, potete leggerlo Dove spiego con i dettagli il perché metto il calendario vecchio Lo modifico per farlo esatto a quel che ho fatto 2. Corretto il bug della stessa foto su dispositivi mobili nella dark mode Perché le foto non si vedevano Allora, se andiamo qua, anche se nel computer, ma comunque nella galleria foto Queste foto sono connesse a un server web Quindi dovete essere connesse a internet per averle Nella dark mode su dispositivi mobili, dato che era ancora la versione molto vecchia dell'app del muscoletto Non c'erano Perché era per computer e dal computer ho fatto il collegamento alle immagini Per quello pensavo di più l'app prima che dopo Continuiamo Nella sezione calendario ha giunto il mese settembre 2020 Allora, se andiamo su calendario Luglio e agosto sono neri Che non esistono più Andiamo a settembre Ecco qua il calendario di settembre Che non è esattissimo perché ci sono dei casini Ma comunque non importa Allora Questo è un'altra cosa Aggiornate la pagina di sicurezza da luglio 2020 a settembre 2020 per una maggior sicurezza Se dovete sapere perché è la giornata andate a leggere l'articolo che trovate in descrizione Gli aggiornamenti e download cambiano Non sono più su Google Drive ma su Mega Se vi ricordate quando in home page si cliccava aggiorna apriva Google Drive e adesso apri invece Mega con questo grande mega galattico Aggiornamento Nuovo pulsante Verifica aggiornamento Si trova in home page Invece su Disp mobili Che sta per dispositivi mobili Si trova nella sezione news Cioè qui dovrebbe trovarsi dove c'è il tasto aggiorna e questa pubblicità Andiamo a vedere in cosa consiste Allora c'è intanto sia in Dark Mode che in Normal Mode Se vedete anche il cambio tra Dark e Normal Mode è molto veloce Clicchiamo su Verifica aggiornamenti Qua è molto più bello Allora Aggiornamento disponibile Versione 1.1.6 Rilasciato il martedì 1 del 9 del 2020 Ore 16 Se è la versione 1.1.5 Aggiorna Così avrà le seguenti novità E poi sono scritto novità E qui c'è il pulsante Aggiorna per computer E aggiorna per dispositivi mobili Allora Vabbè Aggiornato l'articolo Come carcare Photoshop Chiaramente Nella sezione articoli Cosa ha il mouse? Ok Aggiunto un nuovo articolo Come carcare After Effects Poi qua non mi è andato a capo Non so perché Però dovrebbe essere a capo La penultima novità L'assistenza live Cambia di nuovo Con nuovissime funzionalità C'è anche una decima novità Però questa è descritta Nell'articolo Quindi una novità segreta Che vi ho un po' Detto prima Ma comunque Andiamo intanto Le sezione articoli Dove qua è scritto 5 dell'8 Ormai Deve essere più avanti Ma comunque Andiamo Clicchiamo su assistenza live Apre intanto Una nuova scheda Con il sito Officiale di Ademoscritto Andiamo un po' più in sotto Se questa cosa vale Sia su dispositivi mobili Che su pc E qui abbiamo scritto Per chiedere assistenza Vai al seguente link Tic tic Scrivi il problema che hai E la pagina che stai visitando Se vuoi invece Il supporto telefonico Puoi chiedere in chat Invece se vuoi appuntare Clicca il seguente link Allora Andiamo a cliccare qui Sì Dobbiamo aspettare Che si carica Smartzap.com Stannamente non ca Ah ok Facciamo una cosa Ok Qui dovete chiedere Buongiorno Sì vabbè Buongiorno Ho un problema Con l'app Di rmu Poi Io rispondo Salve Bla 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 Mail Dovete mettere Indirizzo mail E nome e cognome Per sapere la pratica In caso si disconnette Magari internet Che non va O O tante altre cose Allora Poi andiamo a questo Link Aspettiamo che carichi Apre sempre Una scheda di Google documenti Praticamente questo È uguale a prima Solo con un'inchiesta Assistenza Live Quindi è tutto uguale Poi avanti Mettete i mail Eccetera Lasciamo la pagina Anche se Ok E queste Erano tutte Le novità Dell'aggiornamento 1.1.6 Invece Se volete Scoprire La novità O le novità Adesso non mi ricordo Se è uno o più O la novità Segreta Andate nel link In descrizione Per leggere l'articolo E lì Troverete La novità segreta Installatevi Questo aggiornamento Che è mega importante E con molte nuove funzionalità Se le volete avere Pesa stra poco Ricordo di iscrivervi al canale Lasciare un like al video Ciao Alla prossima Ciao